musica a delle canzoni a delle canzoni di rapper, trapper driller, rock star eccetera eccetera però di più rapper o trapper o driller un po' stai cazzate qua molto carine molto belle, espressive a così così bene amici allora in questo in questa reaction reagiremo alla nuova canzone di side baby padrino e il videoclip è uscito due ore fa e stamattina è uscito il video, cioè in realtà è uscito stamattina il video stanotte, cioè la canzone però in nessuna classificazione e ancora non l'ho visto invece il videoclip lo stavano elaborando ed è uscito ebbene ragazzi vi volevo dire una cosa che anche se dico sempre però vabbè per i amici per i fan del canale youtube con i miei fratelli ovvero i noi con voi con te vabbè Jonathan Smane Giovelo ovvero il trio il trio di youtube più famoso dell'Abruzzo vi informo di iscrivervi anche al mio canale youtube Ciccomano il Diablo e lì cioè io le chiamo Cicco Reaction tutte le reazioni alle canzoni anche cioè non solo alle canzoni anche ad altri ad altre insomma come posso dire reaction un po' un po' di tutto però le persone di quel canale se volete vedere dei video dove gioco da solo ai gameplay oppure faccio tipo delle challenge su qualcosa oppure da solo vi basterà iscrivervi al mio canale youtube Ciccomano il Diablo cioè in realtà lo facevo da solo anche in questo canale cioè nel canale di noi con voi con te però è meglio farlo su Ciccomano il Diablo invece persone di Ciccomano il Diablo se volete video con i miei fratelli cioè in realtà li faccio sempre con i miei fratelli anche cioè anche quando andiamo in viaggio giochiamo a Roblox i gameplay e vi basterà cioè se volete tipo video dove come posso dire ah dove facciamo delle challenge insieme noi tre insieme tipo delle challenge vabbò vi basterà seguirmi seguirmi a me con i miei fratelli vabbò avete capito già avete capito tutto abbiamo perso tre minuti e mezzo vabbò avete capito il canale youtube noi con voi con te Gionata Giovele Gionata sono io e Ciccomano il Diablo che in realtà ce le stanno tanti di canali anche di loro anche dei nostri amici che però siccome ho elencato sempre non c'ho voglia di elencarvi se volete saperlo cioè se volete sapere i nomi dei canali che devo fare un video un video proprio di tutti tutti i social tutti i social che ci abbiamo vabbè ragazzi partiamo subito side baby padrino dai muoviamoci che stiamo perdendo quattro minuti scusate abbasso un po' il volume perché non c'ho voglia dopo di abbassarlo su you coat alla fine vabbò tanto si sente lo stesso bebbio assolti droga tutte quelle cose che vanno di mano gioielli rolex ma non sono niente sono solo cose il mio rispetto è la prima cosa giro tranquillo dentro la tua zona ottavore di Roma datemi la mia cazzo di corona bebbio assolti droga ma io quella merda non la tua come solo tre dal marocco i miei fintacali sei solo un marmocchio i miei fintacali sei solo un moccioso la tua chima dice che so portentoso faccio soldi ogni volta che parlo faccio soldi ogni volta che mi muovo mi porto Roma scusate se ho abbassato un pochino però ho paura che youtube vi elimini il video per copyright e quindi per non rischiare c'è che youtube vi elimini il video per copyright per non rischiare abbassiamo tanto la canzone si sente ma che quartiere è questo sembra tipo scampia sembra allo zen di palermo oppure Roma sembra un po' di tutto sembra un quartiere pericoloso però sta canzone c'è il beat è carino le parole il testo non proprio abbiamo capito che è drogato c'è che si droga che mi sa che spaccia perché i drogati mi sa che spacciano eeeh vabbò il testo il testo non mi convince tanto vabbè dai andiamo avanti che cos'erano quei botti c'è che ah no hanno organizzato c'è hanno hanno anticipato hanno si come posso dire hanno anticipato hanno improvvisato ecco come si dice a teatro ottavo re di Roma datemi la mia cazzo di corona ok quando passo di zona te la do quando passo quando faccio un giro dai no sto scherzando eeeh abbiamo capito che è l'ottavo re di Roma vuole la sua cazzo di corona dai basta battute di merda abbiamo capito che vuole governare cioè è il governatore lui l'ha detto lui obbediamo tutti a lui obbediamo a side baby non hanno tasso di corona ok allora la canzone è finita eeeh non mi ha convinto tanto il testo cioè è carino cioè il testo può sembrare carino perché quando una canzone è bella dopo ti viene in testa ti viene in mente di cantarla però ecco ma mi sta venendo tipo in mente di cantarla sta canzone però alcune parole che utilizza non è che mi convincano tanto eeeh allora come voto alla canzone vi voglio dare però ci devo pensare un po' ci devo pensare perché il voto della canzone cioè vale anche come il testo vale tutto eeeh sette e mezzo dai come voto gli voglio dare un bel sette e mezzo si sette e mezzo così nel frattempo ragazzi spero che il video vi sia piaciuto noi ci vediamo in un prossimo video davvero è stato è stato carino è stata carina la canzone è stato un bravino ci vediamo in un prossimo video ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.